Hanno deciso di annullare tutte le attività di assistenza alla popolazione durante la visita di Papa Francesco a Bari prevista per domani 7 luglio. Le associazioni di volontariato Misericordie di Puglia e Ampas Puglia, dopo l'incontro tenuto in regione con il direttore del Dipartimento Salute, dottor Ruscitti, hanno deciso di non prendere parte alle attività già programmate e consuete di assistenza alla popolazione durante i grandi eventi come sarà certamente quello della visita di Papa Francesco nel capoluogo pugliese dove sono attesi almeno 50.000 fedeli. Nel corso delle riunioni con Ruscitti infatti sarebbero volate parole grosse e le associazioni di volontariato sarebbero state accusate di essere in qualche modo legate ad un mondo losco o addirittura legate ad ambienti criminali. Affermazioni che avrebbero trovato la eco anche di esponenti politici del governo regionale. Misericordie, Ampas e Croce Rossa rifiutano di essere accomunate realtà di volontariato fasulle e chiedono alla regione di individuarle ed estrometterle da qualsiasi rapporto collaborativo con l'ente regionale. Tuttavia per loro la misura è risultata colma e per questo hanno sottoscritto un documento in cui annunciano l'astensione dei volontari dalle attività di supporto alla visita del Papa. Stante la diversa natura del rapporto con la regione la Croce Rossa che pure ha sottoscritto il documento garantirà comunque la sua parte di attività ma con il venir meno degli uomini delle misericordie e dell'Ampas le postazioni mediche si ridurranno da 4 a 2. Mancheranno 20 ambulanze su 31 e non ci saranno neanche 27 delle 40 squadre appiedate riducendo così il numero complessivo di volontari da 600 quelli previsti a 200. Se noi siamo collusi con la malavita lo siamo 365 giorni all'anno 24 ore su 24 e non solo quando li fa comodo a loro. Noi ovviamente questa protesta ci scusiamo l'abbiamo scritta anche sulle dichiarazioni con il Santo Padre però ovviamente è nata proprio perché l'audizione è stata fatta giorno 3 martedì e quindi noi due giorni per organizzare per parlare tra di noi per vedere da fare e quindi questo è stato fatto non per il Papa ma per dire basta a questa insinuazione. Chiediamo anche un minimo di rispetto perché per quelle organizzazioni, per quelle associazioni che quotidianamente H24 si dedicano a sopperire necessità nel prossimo insomma penso sia anche doveroso. La lettera indirizzata anche alla prefettura di Bari ha indotto la rappresentanza del governo del territorio barese a contattare la regione sollecitando un immediato incontro con le associazioni che si è tenuto dalle 12.30 nonostante l'assenza del dottor Ruscitti.